in questo tutorial vediamo come oscurare tutto ciò che si trova sullo schermo quando siamo su youtube eccetto il video che vogliamo proiettare in classe innanzitutto andiamo su google e digitiamo chrome store arriviamo al chrome web store e digitiamo youtube lights off ed arriviamo a questa schermata dove troviamo l'estensione che ci serve per spegnere le luci di tutti i video che troviamo sulla barra laterale e proiettare soltanto il video che ci serve aggiungiamo questa estensione sul browser di chrome facciamo aggiungi e aggiungiamo questa estensione una volta aggiunto l'estensione troviamo questa icona di lampadina sul nostro computer ora possiamo tornare tranquillamente su youtube senza essere distratti da tutta questa informazione basta cliccarci sulla lampadina e youtube spegne tutto fuorché il video che vogliamo guardare per riaccendere basta cliccarci sull'icona della lampadina si spegne e si accende così possiamo proiettare in classe dei video che selezioniamo senza essere distratti da tutta la pubblicità di video che potremo magari trovare sulla barra laterale questo è tutto alla prossima puntata ciao